Siamo in un periodo in cui tutte le notti possono essere sconquassate da questi eventi e dormiamo un po' sui dormivigli appunto pronti a partire nel caso in cui suonasse l'allarme. Sono state trovate ieri in tarda serata in un casolare abbandonato tra 9 Marostica, 7 delle 24 biciclette rubate ieri notte al negozio di ciclimito sport di via Montello a Marostica. Un colpo da 50.000 euro, come si può vedere dalle immagini che vi mostriamo in esclusiva registrate dalle telecamere della videosorveglianza del negozio, di cui è titolare Marco Endrizzi, 35 anni, hanno agito in 5 persone con il volto coperto. Hanno scelto dall'esterno quali biciclette a sportare, quindi hanno colpito con un piccone la porta d'ingresso riuscendo a forzarla ed entrare. Una volta dentro, come si può notare dalle clip, hanno arraffato i pezzi migliori. In un caso, addirittura, uno dei malviventi ha afferrato 5 bici, restando incastrato sulla porta. Scene incredibili, vissute praticamente in diretta da Marco Endrizzi. Le tre e mezza circa, sono nato il telefono collegato al sistema antifurto, dove si sono accesi addirittura sul telefono le telecamere del negozio, ho visto che stavano ancora portando fuori i bici. Sono partito subito, pensando addirittura di prenderli inconsciamente, però quando sono arrivati qua, ovviamente erano già spariti. La rabbia cresce, se si pensa, come vengono trattate le bici rubate, come conferma il titolare del negozio, quelle ritrovate non valgono più nulla. Quelle ritrovate sono parzialmente rovinate, addirittura abbiamo due telai rotti, tutte strisciate, cioè invendibili, anche di seconda mano.